Parte oggi la dodicesima edizione, sono passati i dodici anni di Ravenna per i conti con l'ambiente. Grande successo che cresce, segreto banale, mette assieme l'ambiente a 360 gradi. Il convieno di oggi parte di climatologia, cioè parla di assetto idrologico, ci ritroviamo nello stesso momento l'acqua siccità, l'acqua inondazione, tutte cose che stiamo anche seguendo con H2O, perché è questo il vero sistema, ciclo integrato dell'ambiente, ciclo integrato dell'acqua, energia, industria, agricoltura, ovviamente il civile, mettere assieme tutte queste cose. Oggi la complessità dell'ambiente richiede una professionalità complessa ed è quello che stiamo cercando di fare con la Fiera Internazionale H2O ed è quello che stiamo cercando di fare Ravenna tutti gli anni con grande successo. Grazie per la visione!